Vietato bere nelle fontane pubbliche di via Cavour, lo ha disposto il sindaco d'introdacqua Terenzio Dicenzo con apposita ordinanza, datata 15 giugno 2018, dopo aver ricevuto le analisi effettuate dalla Asla Vezzano Sumona L'Aquila che hanno rilevato valori non conformi. Fino a nuovo ordine o alla revoca dell'ordinanza è vietato quindi usare l'acqua per scopi potabili o alimentari. Vista la nota del 15 giugno 2018 con cui la Asla Vezzano Sumona l'Aquila comunica l'accertata non conformità dell'acqua destinata al consumo umano, si legge nel provvedimento emesso dal primo cittadino, si riviene necessario per la tutela della pubblica salute adottare apposita ordinanza che disponga il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi pubblici e alimentari. L'ordinanza è stata affissa proprio sulle fontane per evitare che bambini, soprattutto quelli molto piccoli, possano bere non sapendole il divieto imposto dal sindaco su richiesta dell'azienda sanitaria dopo le analisi effettuate. A breve si procederà con le controanalisi affidate alla SACA per decidere se confermare o revocare il provvedimento. Un caso simile è accaduto qualche settimana fa a Canzano e a Campo di Giove.